Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi voglio mostrarvi come fare il backup della posta elettronica che risiede sul client Mozilla Thunderbird. Lo faccio per farvi vedere come è possibile fare un backup della cartella appunto del profilo di Thunderbird, ma anche nel caso in cui vogliate spostare questo profilo da un computer all'altro in maniera veramente molto semplice ed efficace. E' più facile veramente a farsi che a dirsi in questo caso, quindi andiamo a vedere come si fa e vi farò vedere che è veramente molto semplice. Per l'occasione ho scelto due computer installati in rete, il PC 179 che contiene il profilo con la posta elettronica e il PC 202 che invece contiene un profilo senza posta elettronica. Per farvi capire meglio lancio il mio programma Mozilla Thunderbird, salto qui l'integrazione, come potete vedere su questo computer è il computer dove ho tutta la mia posta elettronica. Ho circa 90 messaggi, 2 in posta inviata, 90 in posta in arrivo, 91 in posta in arrivo, questo per farvi vedere appunto tutta la mia posta. Sull'altro computer, sul 202, vado semplicemente ad aprire Mozilla Thunderbird, ma non faccio nulla, annullo tutto una volta aperto perché mi basta quest'azione per cosa? Per creare un profilo vuoto, un profilo vuoto sul quale poi andrò a copiare sostanzialmente il profilo del PC 179. Una operazione che però va fatta prima di tutto è questa, andare su visualizza opzioni, modifica opzioni cartella e ricerca, scheda visualizzazione, quindi quella del mezzo, andiamo a fare visualizza cartelle, file e unità nascosti e poi nascondi i file protetti di sistema, togliamo il flag. Ok, la stessa operazione la vado a fare sul PC 179. Questo che cosa farà? Farà in modo che compariranno delle cartelline di sistema sulle quali dovrei agire appunto per fare la copia del profilo. Quindi anche qua faccio la stessa operazione, quindi visualizza cartelle, file e unità nascosti, tolgo la spunta da nascondi i file protetti di sistema, do un applica, do un ok e su entrambi i computer ho abilitato la visualizzazione dei file nascosti e dei file di sistema. Come vi dicevo, operazione assolutamente necessaria perché adesso sotto l'unità C e precisamente sotto l'utente, quindi nella cartella utenti, utente corrente, quindi in questo caso Gianfranco.messine è il mio utente, cioè dove appunto sono in questo momento logato, è spuntata questa cartellina AppData che sostanzialmente è una cartella nascosta, una cartella di sistema, ve ne accorgete perché è sbiadita, normalmente non la vedete se non fate quelle abilitazioni che vi ho fatto vedere prima. Andando dentro AppData trovo delle cartelline, devo andare sotto Roaming, nonché sotto Thunderbird e sotto Profiles. All'interno di Profiles questa è la cartellina dove ci sono tutte le impostazioni della mia posta elettronica di Thunderbird. Quindi dovrò copiare questa cartella e spostarla sul PC202. Per fare questa operazione non ho fatto altro che sfruttare la connessione di rete, quindi il fatto che queste due macchine fossero in rete. Naturalmente come potete vedere le dimensioni di questo file sono di 23 MB, ma voi potreste avere anche svariati giga perché dipende naturalmente dalla quantità di posta elettronica in termini di messaggi, in termini di allegati che poi sono quelli che pesano di più nella grandezza, nella pesantezza di un file di questo tipo, di un profilo di questo tipo. E quindi attraverso come vi dicevo il percorso di rete l'ho copiato sull'altro computer. Voi lo potete fare tranquillamente su una pendrive. Vedete, io ho fatto copia, voi a questo punto potreste tranquillamente incollarlo, come vi ho appena detto, su una pendrive o metterlo su un cd, insomma dove volete, dove ci entra in buona sostanza, dipende anche quanto è grande. Io ho sfruttato la connessione di rete perché ho fatto, vedete, backslash, backslash, PC202C$, quindi condivisione unità amministrativa. Me ne sono andato sull'unità C e ho creato una cartella temporanea che ho chiamato posta. All'interno di posta ho incollato il profilo di Thunderbird, vedete, e ora se vado sul PC202 e vado dentro l'unità C, questo PC quindi C, anche qui, vedete, la cartella posta è comparsa e me la sposto sul desktop per comodità, all'interno c'è il profilo che appunto ho copiato in precedenza. A questo punto faccio o copia o taglia, dipende questo un po', se avete paura, diciamo, se la posta contiene cose di vitale importanza, forse è meglio fare una copia, per sicurezza, altrimenti fate un taglia, perché se magari qualche operazione non va a buon fine nella fase taglia potreste avere dei problemi, quindi se la posta è proprio questione di vitale importanza fate copia. Tenete presente che copiando un profilo molto grande occupate lo spazio per due volte, quindi se pesa, non so, 20 giga, ne occupate 40 facendo copia, se fate taglia ovviamente no. Io in questo caso ho fatto taglia, intanto non mi importava granché, vado sotto questo PC, vado sotto l'unità C, ancora una volta utenti, ancora una volta Gianfranco Messina, perché anche sotto il PC202 l'utenza è la stessa. Come potete vedere anche qui si è abilitata la cartella app data, ci entro, vado su roaming come prima, Thunderbird, Profiles, e dentro c'è già un'altra cartellina di profilo, che è quello vuoto del PC202. A questo punto che faccio? Incollo il profilo che ho copiato in precedenza, che ho tagliato in questo caso, vedete? Ora ho due profili. Quello originario del PC202 vuoto è quello pieno, quello pieno si chiama bfke, eccetera, eccetera. Che cosa faccio? Quello, diciamo, del PC202, quello vuoto lo rinomino in old, quindi in un file che non verrà più letto, e l'altro gli devo dare lo stesso nome del profilo del PC202, in modo da darglielo in passo, da farglielo riconoscere alla configurazione attuale di questo PC, quindi vedete? Gli ho dato lo stesso nome del profilo del PC202. A questo punto, aprendo Thunderbird, guardate che succede? Tutta la mia posta, compresa la password, l'utenza, tutto quanto è copiato all'interno del nuovo PC. Come potete vedere è un'operazione veramente semplice, che vi fa risparmiare un sacco di tempo, perché fare il backup della posta molto spesso può essere veramente una tragedia in termini di importazioni, esportazioni e quant'altro. Questo è un modo veramente indolore, veramente molto semplice, di copiare il profilo da un computer all'altro in maniera veramente molto semplice. Io come al solito spero di esservi stato di aiuto, se vi è piaciuto il video lasciate un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Come sempre vi rinnovo l'appuntamento alla prossima video guida o video lezione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!